C'è chi ha prenotato la sua vacanza su internet perché solitamente costa meno, magari acquistando i biglietti aerei direttamente dalla compagnia, anche svariati mesi prima. C'è chi invece, pur essendo un amante della vacanza, quest'anno farà una pausa, ma c'è anche chi non ha voluto rinunciare a un piccolo soggiorno a cavallo tra Natale e Capodanno, ma si è limitato ad una gita fuori porta. Al massimo ci si è concessi il lusso di qualche giorno in una capitale europea. Ormai sono soprattutto quelle dell'Est ad essere le mete più gettonate, soprattutto per i prezzi accessibili. In una delle più note agenzie di viaggio messinesi la vacanza più costosa si è girata attorno a 10.000 euro per 5 persone, destinazione Messico. Ma il bilancio delle partenze durante le feste natalizie è assolutamente negativo. Pochissimi sono i messinesi che hanno prenotato un viaggio coi fiocchi, tutti lo hanno fatto programmando molto tempo prima, niente più last minute dunque. Altissimi sono invece i numeri del cosiddetto turismo di rientro, ovvero quello dei tanti siciliani e messinesi che abitando da tempo lontani dai confini dello stretto e per questo Natale si ritroveranno a fare i turisti nella propria città d'origine.